Sono Emilia Romagna e Lombardia le regioni in cui si è registrato il maggior aumento dei casi di incidenti sul lavoro nei primi sette mesi di quest'anno. 1.560 denunci in più per la prima e 2.016 per la seconda. Di sicurezza nei luoghi lavorativi si parlerà a Modena in occasione dell'ottava edizione di Ambiente Lavoro Convention al centro della manifestazione. Ci saranno l'invecchiamento, la sicurezza stradale, la sicurezza nel comparto metalmeccanico e agroalimentare, il benessere sui luoghi di lavoro e la sicurezza ambientale. I dati al momento disponibili provengono dall'INAIL e certificano come la ripresa dell'economia e dell'occupazione faccia da contraltare il ritorno dell'aumento degli infortuni come in una spirale difficile da spezzare. In Italia nel periodo gennaio-luglio 2017 le denunce per infortuni sono state 380.236 più 1,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Crescita che vede contribuire per la maggior parte le lavoratrici rispetto ai loro colleghi uomini, 591 poi le vittime registrate. L'industria si conferma il luogo dove si rischia di più mentre è calata l'agricoltura, storicamente uno degli altri ambiti lavorativi dove si registra il maggior numero di denunce di incidenti. A livello territoriale le denunce di infortunio sono aumentate al nord e in misura più contenuta al centro mentre hanno fatto registrare una diminuzione al sud e nelle isole.